Ciao Camilla, siamo con Camilla Semino-Favro che ha recitato nella serie Il Nostro Generale in un ruolo molto importante, cioè quello di Rita dalla Chiesa. Che esperienza è stata Camilla? L'esperienza è stata ovviamente bella, sicuramente inaspettato inizialmente essere stata scelta per il ruolo della Signora dalla Chiesa. Non me lo aspettavo, non pensavo che avrebbero mai potuto pensare a una somiglianza o un ricordo. Chiaramente non si trattava di imitazione, di dover essere uguale a determinati personaggi, ma si trattava chiaramente di avere un'idea, un ricordo per poter fare poi un lavoro personale e esporre il proprio punto di vista. Quindi io sono stata felice di essere stata scelta e poi grazie a Dio poi anche il lavoro sul set è stato molto piacevole. Mi sono trovata molto molto bene con i miei due colleghi Luigi Imola e Cecilia Bertozzi che interpretavano Nando dalla Chiesa e Simona dalla Chiesa e anche poi con Sergio Castellitto sul set e con Teresa Saponangelo che interpreta Dora Fabbo, la prima moglie di Dalla Chiesa. Si è creato un bel gruppo specialmente appunto con Cecilia e con Luigi. Abbiamo sviluppato un po' degli atteggiamenti da fratelli, quindi passavamo molto tempo insieme in albergo. È stato bello. Tu hai avuto, immagino, modo, mi sembra di aver letto, di conoscere Rita dalla Chiesa. Non so se avete parlato prima dell'interpretazione. Cosa ci racconti di questo? Sì, l'ho incontrata, non abbiamo parlato dell'interpretazione, lei aveva desiderio, io in particolare volevo incontrarla più per rispetto, per comunicarle appunto il piacere che avevo nell'interpretare il suo ruolo e raccontare la storia della sua famiglia e di suo padre. In più, lei mi avrebbe potuto dare anche una serie di elementi e di aneddoti legati a tutto quello che è la sfera affettiva e familiare, quindi rapporti, dinamiche tra fratelli, genitori e via. E lei in più, giustamente, aveva desiderio di incontrarmi e vedere che faccia avesse la persona che l'avrebbe interpretata e quindi abbiamo fatto questa lunga chiacchiera, è stata estremamente affettuosa e generosa e mi ha raccontato tanto. Molto l'avevo già letto dai libri, da Un mio waltzer con papà, Un papà con gli alamari, insomma, libri sia di Rita che di tutti e tre i fratelli insieme, per avere un'idea non solo storica e degli avvenimenti, ma anche familiare. Certo, c'è una preparazione dietro, soprattutto quando si tratta di, oltre che di storie reali, comunque di personaggi che toccano la nostra storia anche molto recente, insomma. Lei ha avuto belle parole sia per te sia per la serie, perché poi credo sia soprattutto significativo quando ha detto che è stato come ritrovare la sua famiglia. Di te leggevo, confermami o meno, che aveva detto non mi somigliava tanto, ma mi sono rivista, quindi credo che per te sia una soddisfazione comunque essere riuscita a riviarla in un certo senso, no? Non lo sapevo, non sapevo avesse detto questo, che non mi somigliava tanto, ha ragione, ma anche io all'inizio ho detto... Però vale ancora di più, credo, no? Sì, ci ho pensato, ma cosa c'è Zecco io con la Della? Poi ho visto delle sue foto da giovane, è tuttora una donna meravigliosa, bellissima, e lo era anche ai tempi, però proprio non vedevo la somiglianza. Però se lei poi è appunto non era l'assomigliare a qualcuno, ma era restituire un'energia, un personaggio, soprattutto delle dinamiche familiari, l'importante era che la famiglia riconoscesse il nucleo, non il nucleo di cui parla la serie, cioè dei ragazzi di Dalla Chiesa che hanno fatto questo enorme, immenso lavoro combattendo le Brigate Rosse, ma il nucleo familiare e affettivo. Certo, che è quello che poi vediamo un po' di meno dei personaggi noti, credo, comunque magari quello che rimane anche dentro le mura di casa. E com'è stato lavorare con Lucio Pellegrini, che è il regista che insomma conosciamo per tante cose belle che ha fatto sia al cinema che in televisione? Bene, mi sono trovata molto bene. Io e Lucio ci siamo incontrati direttamente sul set, perché in realtà non abbiamo fatto un provino insieme, io ho fatto un self-tape, questi che sono i provini fatti in casa, nati soprattutto, no, nati con la pandemia, e pensavo appunto magari che mi avrebbero richiamato, e invece sono stata scelta direttamente dal video, e quindi Lucio l'ho incontrato il primo giorno di set, mi sono trovata molto bene, è sempre molto chiaro nel quello che desidera, nel quello che vuole, nelle indicazioni, ha voglia di lavorare con gli attori, e poi con lui c'era anche Andrea Joublen che ha diretto alcuni episodi, e quindi il lavoro è stato bello, insomma mi auguro di lavorare ancora con lui. Allora non ti rubiamo ancora tantissimo tempo, un'ultima domanda, cosa ti aspetti da questo 2023? se ci puoi dire se stai lavorando a qualcosa, o anche quelli che sono i tuoi obiettivi? Ma io sto a lavorare, avrò un paio di cose in uscita, sia serie che film, e però adesso sto per iniziare tra pochissimi giorni una nuova produzione, prodotta dal piccolo e dalla compagnia Casa d'Argilla, che è una compagnia, il piccolo teatro di Milano, è una compagnia con cui collaboro da diversi anni, lavoreremo su un testo indipendente inglese, contemporaneo, di un'autrice che si chiama Elis Birch, e quindi insomma saranno due mesi abbondanti di prove e repliche. E per ora questo io vado passo passo, finito quello mi lascio sorprendere, altrimenti se spero troppo in qualcosa o se desidero, poi ovviamente rimango delusa, no, non è vero, ho chiaro più o meno quello che ho voglia di fare in questo 2023. Ti ringraziamo per averci concesso un po' del tuo tempo. Grazie a te, grazie a voi.